Tempo fa la Cassazione aveva detto che strappare dalle mani del proprio partner il cellulare per controllare il contenuto e verificare se vi sono prove di un'eventuale infedeltà integra il reato di rapina. In quell'occasione molti si chiesero se invece in assenza di violenza il fatto di leggere la chat WhatsApp per scoprire un tradimento è legale o meno. Immaginiamo il caso di un uomo che abbia inavvertitamente lasciato il proprio smartphone sul divano mentre sta sotto la doccia. La moglie se ne accorge e di nascosto apre le chat per leggere gli ultimi messaggi inviati dal marito. Lì scopre che vi sono conversazioni e video 8 con un'altra donna. Ebbene una prova del genere seppur acquisita contro la volontà del titolare dello smartphone e quindi violando le basilari norme della privacy potrebbe essere ritenuta lecita? La questione è davvero spinosa e proprio per questo è intervenuta di recente la Cassazione per fornire un importante chiarimento. Vediamo dunque cosa ne pensa la giurisprudenza. In questo video scopriremo se si possono leggere le chat WhatsApp di una persona per dimostrare un tradimento o se invece un atto di questo tipo, costituendo violazione della privacy, possa invece essere fonte di responsabilità civile o penale. Statemi a sentire, iscrivetevi al canale, azionate la campanella degli abisi e sigla! In passato ci sono stati numerosi giudici che hanno ritenuto utilizzabili all'interno di un giudizio civile prove ottenute in modo illecito, ossia violando le regole sull'altrui riservatezza. Un esempio? L'8 maggio del 2013 il Tribunale di Torino aveva detto che il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che vieti l'utilizzo di prove acquisite in modo illecito, ossia commettendo un reato contro l'altrui privacy. Al massimo il giudice, chiamato a decidere del singolo caso, dovrà valutare di volta in volta il bilanciamento tra i due interessi in conflitto, quello della riservatezza e quello del diritto alla difesa. Questo significa, ad esempio, che chi entra nell'altrui casella di posta elettronica o clonando o intercettando l'account WhatsApp e riesca così a leggere una conversazione segreta, potrebbe portare queste prove sul banco del giudice per far valere un proprio diritto. Potrebbe essere, per esempio, un atto di infedeltà del dipendente verso il datore di lavoro o magari, come nel nostro caso, un tradimento coniugale. Secondo una recente decisione della Cassazione, i dati sensibili raccolti da WhatsApp altrui, nonostante sia stato letto di segreto e senza autorizzazione, possono essere utilizzati a scopo difensivo in un procedimento legale, come ad esempio quello di separazione. Questo significa che le conversazioni e i video hot trovati su WhatsApp potrebbero essere usati come prova di un tradimento. Poniamo allora il caso di Tizio che scopre dei messaggi compromettenti sul telefono della moglie Sempronia. Se Tizio decidesse di separarsi e volesse addebitare la separazione a Sempronia, potrebbe utilizzare quei messaggi come prova. Ma non è una violazione della privacy utilizzare i dati sensibili di WhatsApp in questo modo? È comprensibile pensare che l'uso di tali dati possa rappresentare una violazione della riservatezza. Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, in casi come questi, l'uso di dati sensibili è permesso se avviene puramente a scopo difensivo, ossia per difendere i propri diritti. La tutela giudiziaria del resto è un diritto sacrosanto riconosciuto dalla nostra Costituzione all'articolo 24, che dunque non può essere sottoposta a limitazioni. Questo è coerente anche con le nuove regolamentazioni dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. La prova del tradimento può influire sulla decisione del giudice di addebitare la separazione a uno dei due coniugi. Con l'addebito, il coniuge responsabile perde, se mai ne avesse avuto diritto, la possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento. Inoltre, perde la qualità di erede legittimo. Tuttavia è necessario dimostrare che il tradimento sia stata la causa effettiva dell'intollerabilità della convivenza coniugale. Pertanto, chi riesce a dimostrare che la crisi coniugale sia iniziata prima dell'infedeltà, non subisce l'addebito, ma all'onere di provare questa circostanza. Riprendendo l'esempio di Tizio e Sempronia, se Tizio vuole addebitare la separazione a Sempronia a causa del suo tradimento, dovrà dimostrare che è stata l'infedeltà di Sempronia a rendere intollerabile la loro convivenza. Se Sempronia, invece, sostiene che la loro crisi coniugale era iniziata prima del suo tradimento e per altre ragioni, sarà lei a dover dimostrare queste ragioni. Mentre la legge sembra chiara, le implicazioni etiche di questa decisione sono un territorio più complesso e soggettivo. Alcuni potrebbero sostenere che l'uso di dati personali in questo modo viola i diritti individuali alla privacy. Altri invece potrebbero vedere in questa possibilità un mezzo legittimo per scoprire la verità e difendere i propri diritti in caso di separazione. Diritti che altrimenti difficilmente otterrebbero una prova certa. Di sicuro non è bello pensare a un mondo di coppie dove si fa a gara per leggere di nascosto il cellulare del partner per trovare eventuali prove. In verità ci dovrebbe essere fiducia, punto essenziale del matrimonio. Tuttavia è cruciale ricordare che, sebbene la legge permetta l'uso dei dati sensibili a scopo difensivo, ciò non dovrebbe essere interpretato come un avallo alla violenza. Come vi ho detto in apertura, si può leggere il cellulare solo se questo è incustodito e non anche se si trova nelle mani del partner strappandoglielo di dosso. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.